Le supercar Lamborghini arrivano in città con Maldarizzi Automotive SPA che ha inaugurato la concessionaria ufficiale di vendita e assistenza di uno dei brand più iconici del mondo nel settore automotive. Un prestigioso traguardo per l'azienda pugliese che consolida così la sua leadership nella mobilità a 360 gradi. È un grande investimento per noi, non solo in termini economici, è un investimento particolare perché comunque veniamo fuori e non siamo completamente fuori da questa tragedia della pandemia, però bisogna guardare avanti, facciamo gli imprenditori e sicuramente questa è un'opportunità per la mia azienda, per i miei collaboratori, ma per il territorio importante. Sede della concessionaria allo showroom in via Oberdan, vetrina della città che racconta in ogni dettaglio tutti i valori della grande eccellenza italiana e il DNA di automobili Lamborghini, uno spazio progettato per esaltare le vetture, massima espressione del lusso made in Italy e che oggi sono pronte per affrontare una sfida importante. La prossima frontiera sicuramente è l'elettrificazione, però manterremo i motori a scoppio con l'ibrido e questa è una buona notizia perché per esempio la nuova Aventador, che non si chiamerà più così, avrà sempre un V12 aspirato completamente nuovo con una batteria. E così anche le altre vetture che seguiranno e questo ci permetterà di abbattere le emissioni di CO2 rispetto ad oggi all'inizio del 2025 di almeno del 50%. E per l'inaugurazione è stato organizzato un viaggio emozionale attraverso tre diverse secret room. Nello showroom la protagonista è stata la Huracan STO, la supercar ispirata al mondo delle corse, nella sound room invece è esposta la Aventador Ultime e nella light room è stata presentata invece la Lamborghini Urus. E così le vetture di Sant'Agata Bolognese sbarcano a Bari in uno spazio esclusivo di vendita, progettato per offrire un'esperienza in perfetto stile Lamborghini. Noi abbiamo accolto questa sfida per riportare questo marchio al sud Italia. Siamo molto felici di questo, è una passione, un sogno che si realizza.